Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, detto questo, diamoci dentro col video. È il mese di febbraio del 2008 e ci troviamo a Darlington Heights in Illinois. Il ventenne Justin Newman inizia la giornata bevendo un caffè con sua mamma, Dana. È da quando aveva 15 anni che aiuta la madre single a sostenere le spese di casa svolgendo qualche lavoretto. In particolare da un anno lavora come magazziniere in un negozio di bricolage e fai da te. Justin ha reagito alle difficoltà della vita sviluppando un'indole generosa. Teme sempre di non avere abbastanza soldi per comprare da mangiare o per pagare l'affitto. È una situazione molto stressante per un ventenne, ma Justin è un ragazzo responsabile che vuole aiutare sua madre. Justin ha molto senso pratico, gestisce le spese, paga l'affitto e lavora sodo al negozio di bricolage dove tutti lo adorano. A primo impatto qualche collega, conoscendolo, aveva pensato che Justin fosse un tipo un po' impertinente, ma col tempo tutti si erano resi conto che in realtà il ragazzo era semplicemente allegro e scherzoso di natura. Per comprendere le difficoltà economiche affrontate da Justin, basta considerare che a volte non portava con sé alcun pranzo preparato da casa, ma nemmeno andava fuori a comprare da mangiare perché non aveva abbastanza soldi. Justin era sempre gentile e disponibile, ma le ristrettezze a cui era costretto non passavano inosservate. Così i colleghi si erano offerti di comprargli il pranzo. Il ragazzo doveva pur mangiare. Justin sa mettere le persone a proprio agio e si fa ben volere. Non soltanto ispira fiducia, ma sa anche infonderla negli altri. Conversa sempre con tutti i clienti e fa un'ottima impressione anche agli imprenditori che frequentano il negozio. Infatti arriva a stringere amicizia con loro. Erano gli imprenditori a decidere da chi farsi servire e Justin era tra i prescelti. Un imprenditore in particolare sembra colpito da Justin. Si chiama Harry Squire. L'uomo era un cliente del negozio da anni. Andava spesso a rifornirsi lì della merce che gli occorreva. Era uno dei proprietari di un'impresa edile specializzata nelle ristrutturazioni. Aveva un'ottima reputazione nella comunità. Lui e Denise, sua moglie, erano molto noti in città. Li conoscevano tutti. Tra Harry e Justin si crea un legame speciale. Infatti Harry andava in negozio soltanto quando era certo che Justin era di turno. Harry diceva che Justin gli ricordava se stesso da giovane. Così, un giorno, Harry gli parla in disparte e lui incoraggia a prendere in considerazione l'idea di lavorare per lui. Gli fa intendere che vuole fargli da mentore. Harry dice a Justin che stanno per cominciare dei lavori importanti nei cantieri in Missouri e gli offre un posto come apprendista. Gli promette 15 dollari all'ora per iniziare con la prospettiva di futuri aumenti. Justin, come qualsiasi altro ragazzo nelle sue condizioni, pensa immediatamente che avrebbe potuto guadagnare molto di più e imparare tante cose nuove. Quindi è entusiasta di accettare la proposta. Harry gli dice di andare a casa sua qualche giorno dopo. In questa occasione gli avrebbe spiegato come usare gli attrezzi. Il 23 febbraio 2008 Justin va a casa di Harry per prendere gli attrezzi che gli serviranno per svolgere il lavoro in Missouri. Partirà dopo un paio di giorni e non vede l'ora di iniziare questa nuova esperienza. Justin è molto emozionato. Saluta sua mamma, le promette che entro le 15.30 sarebbe tornato a prenderla per accompagnarla al lavoro ed esce di casa. Alle 15.30 però il ragazzo non è ancora rientrato da casa di Harry. Il suo ritardo è insolito. Justin accompagnava sua madre al lavoro ogni giorno. Non si dimenticava mai di portarla lì e neanche di andarla a prendere. Justin è un ragazzo responsabile e puntuale. Quindi dov'è? Perché non è tornato? Dana chiama Justin al cellulare ma non ottenendo risposta comincia a preoccuparsi. Sa che il nuovo lavoro non sarebbe iniziato quel giorno e in ogni caso suo figlio non sarebbe mai partito senza salutarla. Dana prega che il ragazzo la richiami presto ma il mattino seguente ancora non ha avuto sue notizie. Come detto Justin non sarebbe mai partito senza avvertire sua madre, senza darle una spiegazione. Finalmente Dana riceve un sms dal numero di Justin e tira un sospiro di sollievo. Ma una volta letto il messaggio è nuovamente preoccupata. Il testo dell'sms riporta Questo comportamento non è tipico di Justin, non si sarebbe mai limitato a scrivere a sua madre soltanto un messaggio. Piuttosto l'avrebbe chiamata e le avrebbe spiegato il motivo della sua improvvisa partenza, proprio per non farla preoccupare. Dana invece è sempre più allarmata così telefona al negozio in cui lavorava Justin, sperando che qualcuno sappia qualcosa su questo nuovo lavoro di suo figlio con Harry Squire. Nel negozio però lei danno una notizia sconvolgente. Harry Squire è morto il giorno precedente. In credula Dana viene così a sapere della tragica fine dell'uomo. Harry Squire è morto a causa di un incendio scoppiato in garage la mattina precedente. Tutti al negozio sono scossi perché Harry era uno dei clienti abituali, ma Dana non può fare a meno di pensare a suo figlio. Quindi spiega che Justin doveva andare in Missuri proprio con Harry. Dal negozio le dicono che sono dispiaciuti, ma non sanno nulla di questa storia. Così Dana chiama l'impresa edile gestita da Harry, pregando disperatamente che qualcuno risponda al telefono. Anche questa volta però nessuno sa nulla, la situazione diventa frustrante, l'ansia aumenta. E Dana inizia a pensare al peggio. Al telefono in realtà ha risposto il socio di Harry, Jim. L'uomo conferma ciò che Dana sa già, cioè che Harry è morto tragicamente il giorno prima. Dana spiega che Harry aveva appena assunto suo figlio, ma la risposta di Jim la getta nel panico. Il socio infatti rivela che la situazione finanziaria dell'azienda non permetteva nuove assunzioni. Inoltre non avevano cantieri in Missuri. Dana è confusa, spaventata ed entra nel panico più totale. Ora che il nuovo capo di Justin è morto e nessuno dei suoi amici sa dove si trova il ragazzo, Dana si chiede come farà a ritrovare il figlio scomparso. Teme per la vita di Justin e decide di chiamare la polizia. Dana riferisce che suo figlio Justin è scomparso. La gente quindi le chiede chi sia stato l'ultimo a vederlo. Dana spiega che il figlio era uscito presto per andare a un incontro di lavoro a casa di un imprenditore di nome Harry Squire. L'informazione di Dana attira l'attenzione degli investigatori. Quello di Harry Squire è un nome già noto ai poliziotti in quanto avevano ricevuto una chiamata dalla casa dell'uomo la mattina precedente. Il 23 febbraio Denise Squire aveva chiamato il 911 dicendo di aver sentito verso le 8.30 del mattino tre forti esplosioni. Sentendo odore di fumo e non sapendo dove si trovasse il marito Denise aveva cercato di entrare in garage. Ma nell'aprire la porta di accesso del garage era stata investita da una vera e propria ondata di fumo. E così aveva chiamato il 911. Dopo aver spento le fiamme nel garage degli Squire i vigili del fuoco avevano fatto una scoperta raccapricciante. I resti carbonizzati di un corpo non identificato. Così avevano fatto intervenire la polizia. Prima di parlare con Denise gli investigatori perlustrano minuziosamente il garage. La prima cosa che nota un detective è un forte odore di liquido infiammabile. Gasolio per l'esattezza. Gli agenti si girano verso la parte anteriore destra del veicolo e individuano il corpo sotto la ruota. Quando esaminano meglio il cadavere i detective constatano che è gravemente ustionato e irriconoscibile. Hanno a che fare con i resti carbonizzati di un uomo in blue jeans, stivali da lavoro slacciati e che indossava una maglietta scura. Recuperano un portafogli nella tasca posteriore dei suoi jeans e al suo interno trovano un documento che appartiene ad Harry Squire. La polizia e il coroner tentano una possibile ricostruzione degli eventi. Analizzando la scena del crimine ipotizzano che Harry stesse lavorando al pick up e che per sbaglio gli fosse caduto addosso del carburante. Poi il cric non aveva retto e Harry era rimasto schiacciato. Successivamente era caduta una lampadina e il fuoco aveva bruciato il corpo dai piedi fino alla testa. Eppure col procedere dell'analisi della dinamica dei fatti questo scenario appare sempre più improbabile. Il luogo dell'incidente solleva molte domande che ancora non hanno risposta. La polizia comincia a notare sempre più incongruenze. La stessa ipotesi che Harry Squire fosse rimasto schiacciato dal proprio pick up non convince più. Questo perché l'uomo si intendeva di automobili, era un meccanico esperto ed era impossibile che avesse commesso degli errori da principiante. Per il coroner anche le condizioni del cadavere destano dei sospetti. Il corpo aveva subito danni molto più estesi di quanto ci si potrebbe aspettare a causa di un incendio sviluppatosi da un pick up. Le ustioni erano talmente gravi da sollevare appropriate domande sulla temperatura dell'incendio e anche sul fatto che fosse rimasto così circoscritto. Pur stabilendo che fosse stato causato da una perdita di carburante che può raggiungere alte temperature, l'incendio non avrebbe comunque potuto coinvolgere tutto il corpo. Dunque gli investigatori, dopo accurate ispezioni della scena, sono convinti che in realtà Harry Squire è stato ucciso. Al cospetto di un omicidio, gli investigatori devono iniziare a raccogliere informazioni, intervistando dapprima la moglie di Harry, Denise, ma innanzitutto devono affrontare l'arduo compito di comunicarle il decesso. Tuttavia, invece di una moglie disperata per l'incendio e soprattutto per la scomparsa del marito, si ritrovano a interagire con una donna stranamente calma. La reazione di Denise quando apprende che Harry era morto in garage è piuttosto fredda, non evidenzia emozioni o lacrime, è come se niente di grave fosse accaduto. Denise quindi è rimasta impassibile e, messo in allerta da questa strana reazione, il detective non le rivela che il garage è una scena del crimine. Si limita a dire a Denise che, a causa delle ustioni presenti sul cadavere, serve il suo contributo per l'identificazione di Harry. I detective le chiedono se suo marito avesse dei segni particolari. La donna risponde, forse aveva un tatuaggio, non ricordo. I detective fanno pressione e Denise conferma che sì, Harry aveva un tatuaggio, forse una bandiera americana, ma non ricordava se lo aveva al braccio sinistro o destro. Era decisamente strano che non lo sapesse, lei e Harry erano sposati da 14 anni. Denise spiega ai detective che lei e Harry di fatto erano separati in casa, dunque non sapeva nulla delle faccende di suo marito. Cosa c'entra questo con il tatuaggio io non lo so. Comunque dormivano in stanze separate, ciascuno aveva i propri amici e la propria vita. Benché Denise Squire non abbia mai menzionato Justin né altri eventuali visitatori sopraggiunti quella mattina, la telefonata di Dana cambia tutto. A questo punto i detective sanno che Justin era andato da Harry per un colloquio. Justin era stato l'ultimo a vedere Harry vivo a casa sua. Gli investigatori quindi si ritrovano con un uomo morto carbonizzato, Harry Squire, e un altro scomparso, Justin Newman. Il ragazzo dunque balza in cima alla lista dei sospettati. La polizia dirama immediatamente un avviso di ricerca. I detective devono assolutamente interrogare Justin per scoprire se avesse qualcosa a che fare con l'incendio. Forse il ragazzo era coinvolto nell'omicidio del suo nuovo capo? La polizia cerca caparbiamente questo sospettato, scomparso proprio nel giorno in cui il suo nuovo capo, Harry Squire, era stato ucciso. Secondo gli investigatori non si tratta di una coincidenza. La morte di Harry è collegata alla scomparsa di Justin. È vero, un indizio non fa una prova, ma desta dei sospetti, alimentati dal fatto che l'ultimo posto noto in cui si era recato Justin è il garage di Harry Squire, il luogo dove è stato trovato il corpo carbonizzato e irriconoscibile dell'uomo. La polizia estende la ricerca oltre la contea di Lake, inserendo il nominativo di Justin in un database nazionale chiamato Leeds. Leeds aiuta i detective a connettersi con le agenzie di altri stati per individuare ricercati o persone scomparse. Mentre i detective intensificano le ricerche di Justin, il coroner procede con l'autopsia di Harry Squire. A questo punto accade qualcosa di strano. La moglie di Harry telefona al suo ufficio con insistenza. Sollecita più volte affinché il lavoro venga terminato il prima possibile perché sostiene di aver bisogno dei resti di Harry in quanto ha organizzato una cerimonia in suo onore. È molto insolito che i familiari facciano questo tipo di pressioni perché di norma sono i primi che vogliono sapere qual è stata la causa della morte del loro caro. Denise invece vuole soltanto che la restituzione della salma di suo marito avvenga il più in fretta possibile. Per gli investigatori è inevitabile domandarsi se sussistano altre motivazioni che spingano la donna a insistere con questa richiesta. Gli investigatori iniziano a considerare la possibilità che Denise voglia recuperare il corpo di Harry per distruggere potenziali prove incriminanti. Supposto che Denise sappia di più di quanto afferma sull'omicidio del marito, potrebbe saperne di più anche su Justin, l'uomo sospettato dalla polizia che Harry aveva invitato a casa sua. Così Denise viene interrogata. La donna sostiene fermamente di non sapere chi sia Justin. I detective però pensano che possa aiutarli a capire com'è morto Harry. Cambiano approccio, chiedono conferma a Denise del fatto che lei non conoscesse le attività serali di Harry e la donna annuisce ribadendo che dormivano in camere separate. I detective provano a comprenderne il motivo e Denise spiega che gli affari non andavano bene, che lei era l'unica che pensava a pagare i conti. La donna riferisce che le pessime decisioni del marito avevano mandato in crisi le loro finanze. A quanto pare Harry Squire non era il cittadino modello che tutti credevano che fosse. Denise dice ai detective che Harry aveva problemi con il governo federale, che era stato condannato per frode e che la sua truffa gli aveva provocato enormi perdite. Harry aveva debiti per un valore di 500.000 dollari. L'enorme ammontare dei debiti, secondo Denise, era ricaduto soltanto sulle sue spalle, provocandole frustrazione e malcontento nei confronti del marito. Forse aveva deciso di sbarazzarsi di tutti quei problemi liberandosi di lui? I detective a questo punto chiedono a Denise se Harry avesse un'assicurazione sulla vita e a loro non sfugge l'esitazione della donna prima di rispondere. Non che io sappia. Denise esita a fornire risposte riguardo a Harry, sembra non voglia dare quelle informazioni ai detective e questo mette in luce il suo essere evasiva. Nel corso delle indagini i detective avevano parlato con altri parenti di Harry e avevano appreso che l'uomo aveva più di un tatuaggio. Su un braccio spiccava la bandiera americana e sull'altro un leone. I detective quindi chiedono di nuovo a Denise di indicare dove erano collocati i tatuaggi del marito perché la prima volta aveva risposto con esitazione dicendo soltanto che le sembrava che avesse una bandiera americana tatuata su un braccio. Quando gli agenti insistono Denise conferma di ricordarsi unicamente di quel tatuaggio, ossia quello della bandiera. Poi messa di fronte al fatto che Harry ne aveva certamente due risponde vaga non so che dire mi deve essere sfuggito. Ora è presumibile che se si convive con qualcuno per 14 anni si conosca tutto o quasi di quella persona. Probabilmente ora Denise, conscia delle sue dubbie e risposte, deduce di essere indagata. Le persone reagiscono in tre modi quando le si mette alle strette. Possono negare estremamente in modo anche aggressivo, magari alzandosi in piedi e urlando come potete accusarmi di questo? Oppure, altre volte, se non cedono e confessano, si limitano soltanto a dire no, io non c'entro. Oppure, nella migliore delle ipotesi, se messi alle strette potrebbero cedere e confessare il crimine. Denise a questo punto chiede di essere assistita da un avvocato, ma il detective sottolinea che la maggior parte delle persone innocenti non ne fa richiesta immediata. Ad ogni modo, gli investigatori le dicono che non ha bisogno di un avvocato perché è libera di andarsene. Cioè nonostante, la donna rimane una sospettata. I detective sono convinti che Denise sta nascondendo delle informazioni importanti. Pensano che la donna abbia mentito sull'assicurazione sulla vita di Ari e sul fatto di non conoscere Justin. Le cui difficoltà finanziarie erano note a tutti, ahimè. Che lui e Denise con lo stesso movente abbiano complottato per uccidere Ari? Più tempo Justin risulta irreperibile, più è considerato un sospettato. Poi, sette giorni dopo, nel comune di Eureka, in Missouri, a cinque ore di distanza dalla casa di Justin, un agente di nome Robert, di pattuglia presso un motel, si ritrova coinvolto nell'indagine. Come? Ve lo spiego subito. L'agente si imbatte in un veicolo che aveva una targa dell'Illinois. Questa targa è messa piuttosto male e ciò attira la sua attenzione. L'agente chiede ai colleghi in centrale di effettuare un controllo sulla targa ed emerge che la vettura apparteneva a una persona scomparsa di nome Justin Newman. Così l'agente prende in mano la situazione ed entra nel motel in cerca di informazioni. Ottiene subito la sua prima conferma. In effetti, una camera è occupata proprio da un certo Justin Newman. Con questa informazione, l'agente contatta immediatamente l'ufficio dello sceriffo di Lake County. I due si parlano e l'agente del Missouri viene a sapere che Justin Newman è sospettato dell'omicidio di Harry Squire ed è potenzialmente pericoloso. Così che fa Robert chiamare i forzi e rientra nel motel per prendere Justin in custodia. Bussano alla sua porta, ma non ottengono risposta. Allora bussano di nuovo, ma ancora nessuna risposta dall'altra parte. L'agente ha un brutto, bruttissimo presentimento. A distanza di qualche secondo si sentono dei colpi di pistola. Gli agenti quindi si introducono nella camera buttando giù la porta e trovano il corpo senza vita di un uomo con accanto la pistola. Gli agenti perquisiscono la stanza per accertarsi che non ci siano altri uomini armati. Robert vede immediatamente l'arma, poi si concentra sul corpo di Justin Newman. Gli tasta il polso, ma non c'è battito. Sul cranio si evidenzia una ferita d'arma da fuoco autoinflitta. Questo vuol dire che Justin Newman si è suicidato. Se è stato lui a uccidere Harry Squire, forse i dettagli sulla morte dell'uomo verranno sepolti con lui. Mentre Robert ispeziona la scena del crimine nota un documento di identità, lo prende e dà un'occhiata alla foto. Così si rende conto che c'è proprio qualcosa che non quadra. Justin aveva una folta chioma, sembrava molto giovane, mentre l'uomo senza vita di fronte alla gente ha una vistosa stempiatura ed ha l'impressione di aver avuto 35-40 anni. Robert a questo punto chiama la contea di Lake e si informa su eventuali segni particolari di Justin Newman. La polizia della contea di Lake gli dice che Justin aveva una lettera J tatuata sull'avambraccio, ma questo tatuaggio non è presente sul cadavere che il detective Robert ha davanti a sé. Ai detective ormai non quadrano troppe cose e arriva la conclusione che l'uomo suicidatosi nel motel non è Justin Newman. Ma allora chi è che si sta spacciando per lui? Robert ha un'intuizione e chiede agli agenti della contea di Lake se invece Harry Squire aveva tatuaggi. Questi ultimi lo informano che Harry Squire aveva una bandiera americana tatuata sul braccio destro. Gli investigatori di Eureka individuano il tatuaggio della bandiera. Così gli investigatori della contea di Lake mandano una foto di Harry a Robert. Non appena Robert riceve la foto di Harry non ha più dubbi. Il cadavere al suo cospetto appartiene proprio ad Harry Squire. La scoperta dell'agente Robert ribalta totalmente il caso. Se il corpo nella stanza del motel è quello di Harry Squire, allora di chi è il cadavere carbonizzato trovato nel suo garage? Nell'ufficio del coroner della contea di Lake c'è un cadavere che deve ancora essere identificato. Il coroner agisce in fretta. La sua prima ipotesi è che si tratti di Justin Newman. Una volta appurato che non poteva trattarsi di Harry Squire, i detective recuperano un campione di DNA dalla madre di Justin, Dana, per poter stabilire se il corpo era effettivamente quello di suo figlio. La polizia aveva già prelevato un campione del DNA di Dana per agevolare le ricerche di Justin e ora questo viene inviato al laboratorio per il confronto con il campione prelevato dal corpo. Un'eventuale corrispondenza rivelerebbe che è stato Justin a morire a casa di Harry Squire. Mentre attendono i risultati del test, gli investigatori cercano di mettere insieme le nuove informazioni. In possesso di un documento di identità che non gli apparteneva, Harry Squire era vissuto per altri sette giorni dopo l'incendio. Poi si era tolto la vita quando la polizia aveva bussato alla porta della sua stanza nel motel. Gli investigatori avevano trovato la macchina di Justin nel parcheggio del motel, il suo nome sul registro e il suo documento di identità nella stanza. Significa dunque che Harry si era spacciato per lui? Justin è coinvolto nei suoi piani o giace senza vita nel laboratorio di Lake? Una delle risposte arriva pochi giorni dopo. Il cadavere nel laboratorio è quello di Justin Newman. Questo significa che gli investigatori dovranno dare a Dana la più tragica delle notizie. Appena ne viene a conoscenza Dana crolla devastata. Ciò che è accaduto è terribile. Justin Newman non è più un disperso e non è più un presunto omicida. È invece la vittima di un assassino. Una vittima il cui corpo è stato schiacciato e bruciato per celarne l'identità. Come causa della morte di Justin era emersa l'asfissia provocata dal peso del pick up sul petto. A questo punto è necessario rispondere a un'altra domanda. Chi ha ucciso Justin allora? Gli investigatori esaminano tutte le prove. Il corpo ritrovato nel motel appartiene indubbiamente ad Harry Squire. Il giorno dell'incendio a casa sua l'uomo si trovava nel motel di Eureka da solo e diceva di chiamarsi Justin Newman come dichiarato da alcuni residenti. Quindi ricapitolando. La stanza riservata nel motel era a nome di Justin Newman e sul registro degli ospiti c'era la sua apparente firma. Nella camera del motel inoltre vengono rinvenute diverse confezioni aperte di tintura per capelli. Infine Harry indossava anche delle lenti a contatto azzurro proprio per tentare di assomigliare a Justin. Gli investigatori sanno che Harry aveva invitato Justin a casa sua la mattina dell'incendio. Sanno anche che era fortemente indebitato e in cerca di una soluzione per saldare i conti. È evidente che Harry Squire non era una vittima bensì un carnefice. A casa degli Squire era avvenuto un fatto di inaudita gravità e crudeltà. Justin Newman era stato portato alla morte con l'inganno. Ma perché? Denise, l'ormai vedova di Harry Squire, viene convocata in centrale di polizia. Questa volta potrebbe fornire agli investigatori l'ultima tessera mancante del puzzle. Anche se fino a ora la donna si era sempre rifiutata di parlare con loro. Gli agenti le dicono che il suo marito è stato trovato in Missouri e che si è tolto la vita. Sparandosi alla testa non appena la polizia del posto ha bussato alla sua porta. Denise esclama Ma come? Mio marito è morto giorni fa. È all'obitorio. Gli investigatori le spiegano che il corpo che si trova all'obitorio è quello di un'altra persona. La informano che Harry ha trascorso sette giorni nello stato del Missouri prima di suicidarsi. Quando il detective l'aveva informata del decesso di quello che riteneva fosse suo marito, l'assenza di emozioni sul volto di Dana era stata palese. Adesso però le lacrime che la donna sta versando portano il detective a credere che in realtà Dana sapesse già che Harry era vivo e vegeto, che si era rifugiato in Missouri a 550 chilometri di distanza. Denise quindi ancora una volta non sta dicendo tutta la verità. Così il detective decide che è ora di aumentare la pressione. Quando le comunica che richiederà un mandato per i documenti di Harry, Denise comincia a parlare. Ovviamente gli investigatori hanno già dei sospetti. Presumono che l'omicidio fosse stato guidato da un movente economico e che la moglie di Harry Squire fosse al corrente di tutto. I detective le ripetono Suo marito è morto, Denise, però non è morto come ci ha detto lei. A quel punto Denise rivela di aver trovato una copia della polizza sulla vita di Harry dal valore di 5 milioni di cui era l'unica beneficiaria. Quando i detective le chiedono perché non ne avesse parlato prima, Denise risponde che temeva di finire nei guai. Gli Squire avevano debiti enormi e gli investigatori scoprono che Harry aveva parecchi motivi per fingere la propria morte uccidendo Justin e assumendo la sua identità così che Denise riscuotesse il denaro. Non è chiaro se Denise fosse al corrente del piano per uccidere Justin. Nelle settimane successive la polizia mette insieme le ultime tessere del puzzle e ricostruisce così la probabile serie di eventi avvenuta in garage quel fatidico giorno. Secondo la teoria elaborata, Harry Squire, disperato per i debiti che avrebbe dovuto pagare, aveva cercato qualcuno da uccidere per poi fingere la propria morte assumendo l'identità della vittima. I detective inoltre scoprono che Justin non era la prima scelta di Harry. Inizialmente l'omicida aveva individuato un altro impiegato del negozio, aveva programmato un incontro con lui per il 23 febbraio, ma per qualche motivo l'appuntamento era saltato. Fallito il primo tentativo, Harry aveva attirato Justin a casa sua offrendogli un lavoro. Tim sia stato reso incosciente o inabile in qualche modo. Harry è riuscito a spogliarlo e a mettergli i vestiti che indossava lui. Poi l'ha posizionato sotto il veicolo e ha rimosso il cric così che il pick-up gli schiacciasse il torace. E in effetti è andata così. Il pick-up gli ha sfondato il petto e il cuore è esploso. Secondo gli investigatori, dopo aver appiccato l'incendio, Harry ha preso il documento di identità e l'automobile di Justin in attesa che Denise riscuotesse i 5 milioni. Ha perfino inviato a Dana un messaggio dal telefono di Justin per non farle sospettire. Ma, come ricorderete, questo piano non ha funzionato. Dana non c'è assolutamente cascata, anzi si è preoccupata ancora di più. Siamo in presenza di un classico omicidio premeditato. Harry Squire credeva di aver pensato a tutto. Aveva elaborato un piano preciso per uccidere qualcuno e continuare a vivere senza difficoltà economiche, spacciandosi per lui. Ma poi, con la polizia alla porta del motel, aveva capito che il piano era fallito, così si era tolto la vita. Aveva scelto la via d'uscita più semplice. Gli investigatori sono convinti di aver trovato il movente per l'omicidio di Justin Newman. Sono decise a ottenere giustizia per Justin e la sua famiglia, quindi presentano tutti i fatti e le prove all'ufficio del procuratore. Ora che Harry è morto, gli investigatori sperano di riuscire a incriminare Denise, ma la procura ha ritenuto gli elementi raccolti insufficienti per procedere. Denise è stata scagionata, ma i detective non hanno alcun dubbio. Quella donna sapeva cosa stava facendo il marito. Molti casi di omicidio vengono commessi da assassini che conoscono la vittima. È qualcuno che hanno già incontrato e con cui hanno una certa familiarità. Ciononostante, come si possono prevedere le mosse di un assassino? Impossibile immaginarlo. Certe persone sembrano addirittura generose, fanno offerte allettanti, come nel caso di Justin, a cui Harry aveva offerto un lavoro migliore, l'opportunità di fare carriera. Justin pensava che Harry fosse un bravo uomo, disposto ad aiutarlo, quando in realtà era soltanto un assassino spietato. Harry aveva visto in Justin Newman una vittima fin dal principio e alla fine l'ha reso una vittima per davvero. Otto mesi dopo, Dana trascina Denise al tribunale civile, facendole causa per omicidio colposo, sostenendo che aveva cospirato con Harry per uccidere Justin. Ottiene un risarcimento di 6 milioni di dollari, ma il denaro è una magra consolazione. Ha perso un figlio a causa dell'avidità di Harry e la sua vita non sarà mai più come prima. Detto questo, ho finito di parlare in questo video, spero ovviamente che questo caso possa essere stato di vostro interesse e fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto. Con un commento, conoscevate questo caso? Io non lo conoscevo e onestamente quando ci sono questi casi di persone che vogliono prendere il posto di altre persone rimango alquanto scioccata. Conosco dei casi in cui ci sono delle gemelle che hanno pensato di prendere il posto dell'altra, ma questo caso io proprio non me l'aspettavo. Cioè non pensavo che finisse così. Ecco, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Come al solito ci becchiamo qui sotto. Io nel frattempo vi mando un bacione. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti!